giù non è possibile hai sbagliato pulsante non toccare quel computer lo stavo solo guardando ha sbagliato pulsante stammi bene a sentire questo computer è stato programmato per farmi sognare modificando il programma hai combinato un grosso guaio io stavo sognando una scena magnifica e tu hai trasformato il mio sogno in un incubo io ho paura perché spaventi flappi? giù mi sbrigati o farai tardi a scuola arrivo grazie a tutti